Come si allaccia sta cosa? Vieni a segno con quella cravatta altrimenti arriviamo che lo spettacolo è già finito Ok, ce l'ho fatta Sta male? La tolgo? Anche stare in campo? Pot a ver, sdizione, remoscia, condizionamenti Ma dove lo trovi un canale così? Iscriviti Non avrai mai a pentirtene, Ray Il nostro amico Beppi è sempre molto generoso nel suggerirci Pot a Verbs e per la puntata di oggi abbiamo deciso di adottare uno dei suoi suggerimenti Grazie Ma chi l'Andrea? Ma desmet Che lei va sempre a ruota Va Andare A A Ruota Ruota Ma che cosa significa il Pot a Verbs andare a ruota? È un complimento forse? Ma no Andare a ruota significa scroccare Uno che va a ruota non mette mai mano al portafogli Quindi non è un complimento È un po' come quei ciclisti Che non stanno mai alla testa del gruppo per fare meno fatica Dovresti smettere di andare a ruota La gente poi si stufa di offrirti da bere Certo che l'Andrea gira sempre a concerti mezzi E si vede che guadagna bene Chi l'Andrea? Ga crede che il va sempre a giro coi macchinù Al va sempre a ruota Utilizza anche tu con fiducia il Pot a Verbs andare a ruota E se non ricordi cosa significa Ritorna sul canale e riguarda il video Che ti rinfreschi la memoria Andiamo tutti fuori a cena sabato? Dai chiamiamo anche l'Andrea a questo giro No Andrea no ti prego Prende sempre il piatto più caro Poi quando c'è da pagare va sempre a ruota Grazie del tuo like Ricorda di scrivere nei commenti qua sotto Altri Pot a Verbs Come ha fatto Beppi Ci costruiremo sopra grandi puntati Grazie anche ad Andrea E soprattutto le banane sulla testa Questo è il bello del canale Eh